Buongiorno a tutti, questo è un gran momento nella storia del Sydney FC e per l'A-League. L'acquisto di Alessandro Del Piero rappresenta un grandissimo colpo per questo club ed è un momento storico per tutto il calcio australiano. Fino a due settimane fa non avremmo potuto fare un'offerta ad Alessandro, come tutti sapete avevamo già due marquee player e cinque stranieri, poi però le cose si sono sistemate negli ultimi giorni e una settimana fa abbiamo avuto la possibilità di fare un'offerta ad Alessandro. E' stata una decisione delicata ma presa con convinzione sia dal board che dall'amministratore delegato. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta e credo che ci ripagherà nel corso del tempo. Siamo onorati che Alessandro abbia deciso di venire qui, aveva ricevuto tantissime offerte da tutto il mondo, anche di club molto blasonati. Lui ha fatto le sue valutazioni e ha scelto il Sydney. Sì è vero, so che ha 37 anni, ma è un giocatore di classe mondiale e può ancora giocare ad altissimi livelli. Ecco perché c'erano tantissime altre squadre, dalla Premier League alla Serie A, che lo cercavano. Siamo sicuri che il suo arrivo avrà un grandissimo impatto. Naturalmente non voglio entrare nei dettagli, ma si tratta del contratto più importante nella storia del calcio australiano.